Guarda che ho trovato, con questa, con il lumino dentro, la accendiamo e la mettiamo sul cammino È una buona idea, che dici? Poi ho trovato questo, magari ne prendiamo un po', li accendiamo e li mettiamo sul davanzale Si può fare, che carino, senti ma per la maschera, io ho visto questa qua, ma che dici faccio paura con questa, vedi? Sì, però sotto che metti? Buonasera, c'è qualcosa? Mi consiglia? Sto cercando un vestito che possa spaventare un uomo Spaventare un uomo? Prova con la miglia sposa A me, a me, scusami Ora metti, devo finire qua, ogni cinque minuti arriva uno piscavo, le stucche e i tuoi, e per te ragionare così